Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video, sul mio canale YouTube Anaconda TV e l'estera sarà così, perché io essendo qua in Canada, però io se parlo italiano è perché sono italiano e sono un fedele seguitore sono iscritto al canale di Federico Marconi e Pipega, come vediamo? Tutti i giocatori della YouTube e della Liga, non per quello mi hanno fatto ordinare da qualcuno in Italia l'album delle figurine, dei cacciatori della YouTube lì, ma questo sarà un altro video sempre qui, solo su Anaconda TV e quindi ora vi parlerò di YouTube in Italia, mi invitavo a parlare di tante cose, di tante cose extra perché ho voluto dare questo, voglio modificarmi, scusate, perché succede, 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 ma quindi mi mancava parlare così davanti a un pubblico, a voi, quindi questo è il mio nuovo video è il mio nuovo video, ma se no non devo tagliare i capelli, vabbè, non bagliate ciò che ho detto, ma prossimamente parleremo della YouTube Summer Cup ci sono tante squadre, Roma, Lazio, la campionezza della YouTube League, Roma, Lazio, Milano, Napoli, Napoli, Inter, io ve l'ho detta, Napoli, Inter l'ho detta, io ve l'ho detta, che sono due nuove, che sono, sono Bologna e Fiorentina, quindi io auguro un bocca al lupo a tutti i giatori della YouTube, YouTube Summer Cup, e auguro un forte, incredibile, un ringrazio a tutti voi, un seguito, un ringrazio da con la TV Extra, oh, yes, vamo, vamo!